Per accedere in finale il Corato poteva solo vincere e l'ha fatto? Sì, avevamo anche programmato nell'arco dei 120 minuti, però oggi i ragazzi sono stati incomiabili perché addirittura l'abbiamo fatto nell'arco dei 90 minuti. Voglio complimentarmi con i ragazzi perché hanno saputo soffrire nel momento giusto, colpire nel momento giusto. Forse potevamo avere un po' più di personalità in certi momenti della gara, ma forse chiedo troppo. Dall'altro canto faccio i complimenti veramente di cuore al Barletta perché ha fatto una grande partita, ma noi dall'altro lato dovevamo farle questa. Se non hai un pizzico di fortuna contro queste grandi squadre non esci il vincitore. Quindi mi tengo stretto a questa vittoria, anche venuta, arrivata con sofferenza, però è impensabile venire qui contro il Barletta, contro una grande squadra e non soffrire. Ripeto, faccio i complimenti dei ragazzi perché hanno interpretato la gara in maniera perfetta. Comissario, è stata anche una partita a scacchi tra lei e il suo collega. Avete cambiato più volte entrambi, non sistema di gioco, ma anche atteggiamento, lettura della gara. Quanto è stato importante il ruolo anche lì davanti di Montaldi? Che è vero non ha segnato ma ha fatto un gran lavoro. Ha detto bene Luca, abbiamo tante volte, si aspettava la mossa avversaria per cercare di trovare la controsoluzione, altrettanto loro. Chiaro che la partita a 90 minuti non è mai uguale, cambia e là dobbiamo essere bravi, insomma, come siamo stati in tanti momenti a saper interpretare quei momenti. Hannibal Montaldi è un calciatore, stop. Cosa ha pensato mister sull'ultima parata di Addario, proprio nell'ultimo istante di gioco? Senti, ero fiducioso, anche se un po' di timore mi ha sobalzato, diciamo un po', però pari idee, quel portiere di categoria superiore, quel portiere grande che ti dà quei 7-8 punti nell'arco di una stagione, oggi ti ha dato la qualificazione insieme ai ragazzi, ti ha dato la qualificazione alla finale. Quanto vale appunto aver raggiunto questa finale e come si prepara, come si recuperano intanto energie e come se ne trovano delle nuove al di là degli stimoli che una partita del genere garantisce? Certo, difficile dopo aver sprecato tante energie sia nella partita precedente perché non avevamo ancora in tasca il playoff che in questa partita dove avevi l'unico obiettivo è quello di vincere. Non è semplice ricaricare le batterie, le pile, però ho tanta fiducia, ho tanta sicurezza in questo gruppo che sono così tranquillo che loro sanno quando ricaricarsi e farsi trovare pronti sicuramente domenica prossima.